Serviamo il paradiso. Aspetta, aspetta, fate finta di essere felici. Ancora, ancora, chi è tu? Mamma mia, che meraviglia. Guarda che meraviglia, ora faccio una panoramica. Una panoramica, ora siamo sovraffesi. Ancora, ancora, restate così. È un bel momento. È un bel momento, sì. Altri 15-16 minuti e potete passare il braccio. La prima volta è durato 39 minuti, quindi tenetemi il braccio. Allora, possiamo partire? Sì. Possiamo partire con la musica? Se vi vale, state così. Se vi si acciughe il braccio, lo pagate. E allora resta un ultimo battito. Prima di vedervi scivolare via dal teatro, resta un ultimo battito per provare a ingrassare ancora di più questo sorriso che abbiamo cercato e voluto disegnarvi sulle labbra. Resta un ultimo battito di questo concerto, che è stato così pieno e violento, che forse non è mai esistito. Resta un ultimo battito per dire grazie a tutti voi, ai 1126 di questa notte solo nostra. Grazie a tutti. 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 Si spaventano e mi fa ridere E segnare che brucia il fuoco Si spaventano e mi fa ridere E accende il sogno che è così celeste Si spaventano come un pianeta che gira intorno E brucia il fuoco si spaventano Grazie a tutti Grazie 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 Lascio per ora, con te, mi notate Mi aspetto, juro, quando va a facciare 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 Grazie Grazie Buonanotte 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 Ciao, grazie Grazie mille Buonanotte Buonanotte Grazie Grazie.